Salve, sono Maria Rosaria e mi occupo di estetica. Ho un centro da 15 anni, con due sedi, sei collaboratrici e da 53 giorni siamo a casa. Le decisioni del governo, comunicate dalla conferenza di Conte l'altra sera, ci hanno detto, ci hanno informato del fatto che saremo ancora un altro mese a casa. E dopo qualche minuto di sconforto, perché il pensiero per il 20 di maggio più o meno ce l'avevamo messo e quindi avevamo iniziato anche a, diciamo, veramente immaginare, a prepararci per la riapertura. All'inizio c'è stato un attimino di sconforto, ma razionalmente io dopo non ho potuto non pensare che le decisioni del governo siano quelle giuste. Mi sento un po' una mosca bianca perché ho visto dai social tantissime persone che raccolgono colleghi, colleghe, quindi sia parrucchieri che estetiste, che raccolgono firme per chiedere al governo una riapertura. Io ricordo che l'8 marzo con poco più di mille contagiati al giorno e 130 morti chiedevamo la chiusura perché volevamo sentirci garantiti, volevamo mettere in sicurezza sia le nostre collaboratrici, le nostre clienti, le loro famiglie, le nostre famiglie. Adesso con il doppio dei casi, anzi dei morti più del doppio, chiediamo che tutto riapra e garantiamo, io da quello che vedo, molte mie colleghe fanno dirette Facebook in cui fanno vedere che loro adoperano tutti i sistemi di sicurezza che hanno sempre adoperato. Ma se prima noi avevamo a che fare con dei virus diversi, il virus dell'HIV o il virus dell'epatite C sono virus la cui trasmissione avviene per un contatto ematico. Il Covid-19 è un virus che si muove in una maniera molto più veloce ed è nell'aria e si è visto che le mascherine, quindi i dispositivi di protezione che utilizzano negli ospedali, comunque non garantiscono una protezione al 100%. Vuol dire che se nella mia attività dovesse entrare una cliente affetta dal virus che magari è ancora asintomatica e non lo sa, e dovesse infettare me, mentre ad esempio le faccio le sopracciglia o il baffetto, delle situazioni nelle quali lei non può avere la mascherina, io posso diventare un'untrice per tutte quante le altre mie clienti. Allora, il discorso qual è? I dispositivi ci sono, noi prima della chiusura, già prima della chiusura, per una settimana abbiamo lavorato con le mascherine, la avevamo per noi e la davamo a tutte le clienti che entravano nell'attività, ma purtroppo se ad un certo punto abbiamo richiesto noi, come tutti i miei colleghi, la chiusura, è stato perché capivamo che quei dispositivi non erano in grado di proteggerci. E allora io mi chiedo che cosa è cambiato in questi due mesi di chiusura? È cambiato che siamo stanchi, sicuramente, è cambiato che abbiamo paura dell'abusivismo, che qualche persona senza coscienza ci rubi, tra virgolette, la cliente e vada a servirla a casa? Io mi affido molto all'intelligenza delle persone che conosco e che ho conosciuto in tutti questi anni. E il problema dell'abusivismo non è un problema soltanto odierno, ma è un problema che è sempre esistito. Allora adesso abbiamo paura di perdere le clienti, perché magari possono contattare? Io credo che il problema più grande in questo momento sarebbe quello che il virus riparta, che i focolai aumentino di nuovo e che la situazione ritorni ad essere drammatica come ancora lo è. Perché noi viviamo in un'osi felice, fortunatamente il mio comune, il comune di Ascea, non ha avuto nessun contagiato. Ma non per questo io posso sentirmi più sicura di una persona che vive in una situazione più a rischio. Anche perché nel momento in cui tutto riparte e i trasporti ripartono, i viaggi ripartono, tutta l'Italia tornerà a non essere più zona rossa, ma ogni posto può essere esposto al rischio. Quindi un altro mese a casa per me va bene, conscia che le difficoltà economiche sicuramente aumenteranno, ma fiduciosa negli aiuti che lo Stato piano piano potrà darci. E faccio questo messaggio con tutta la mia onestà intellettuale. Io sono consapevole che la situazione è difficile, però sono consapevole anche che è molto facile giudicare, additare, quando non si è in prima persona a prendere alcune decisioni. Io sono convinta che tutto piano piano si sistemerà, però credo che ci voglia molta pazienza e una grande fiducia. Una grande fiducia. Io mi sento fiduciosa. I miei figli sono felicissimi che mi tengono a casa per, diciamo, che siamo sempre insieme, cosa che non succedeva mai. Sto cercando di cogliere tutti gli aspetti positivi di questa vicenda. Per solidarietà agli miei clienti, non ho fatto neanche io il colore, ho i miei capelli bianchi e le mie unghiette corte. Stringiamo i denti e tra un po' torneremo alla normalità. Un bacio.